Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi vi propongo un unboxing fantastico insieme a un tutorial molto breve. Questo è un pacchetto che mi è arrivato stamattina da RL Tech Design, ragazzo con cui collaboro da un po' di tempo, vi lascio il link in descrizione. Mi ha fatto, vi anticipo già ora prima di unboxarlo, un pomello per il cambio della Mito e uno spiato della turbina, della valvola Popop, personalizzata. Quindi avrò due cose personalizzate, non so come sono venute perché io gli ho semplicemente dato il mio input, la mia idea, la mia personalizzazione, lui li ha fatti, però non ho voluto approfondire, non ho voluto vedere foto al lavoro finito, quindi non so realmente cosa posso aspettarmi di trovare qui dentro, voglio scoprirlo insieme a voi. Quindi ragazzi, io direi intro e cominciamo subito. Ragazzi, cominciamo quindi l'unboxing, ovviamente faccio una cosa abbastanza rapida, in quanto dopo ci sarà il tutorial. Questo che vedete adesso è il tappino che va sul tubo dell'aspirazione per la valvola Popop, è errato, quello dell'Abbart, gli ho dato le misure esatte a Lorenzo, quindi a voi arriverà quello corretto. Questa è la valvola, è lo sfiato della turbina, è veramente assurdo con la personalizzazione del mio logo, è di una definizione millisimale, è veramente pazzesco, non ci sono parole, l'incisione alla serve veramente super precisa, poi nera e questo argento è veramente un tocco di classe. Questo è il pomello che vedete tra poco, è veramente allucinante. Che spettacolo! No vabbè, è pazzesco, è pazzesco raga! Nooo, quanto è bello! No raga, porco 2, ti giuro Loretti sei veramente, non lo so, sei un artista, è un artista una persona che riesce a fare delle cose del genere. Che opera d'arte è venuta! Io penso che questo ragazzo non lo posso montare io, io non lo posso montare, cioè non sono degno di avere un'opera d'arte dentro la macchina. Che spettacolo! Qui dentro cosa c'è? Questo dovrebbe essere la canalina per sorreggere il pomello, ne sa, credo, forse va così, no, non lo so, io lo devo chiedere, io lo devo chiedere come va questa parte. Cominciamo subito con il tutorial, svidiamo prima il nostro pomello a 5 marce, basta svidarlo, la pipetta basta sfilarla, poi ci sta quel gommino che va rimosso, io lo rimuoverò più avanti, va rimossa la cuffia per lavorare con più facilità. Sulla lava del cambio ci troviamo questo dentino che andrà a bloccare la pipetta in carbonio, quindi andrà limato. Per limarlo, prima vi consiglio di appunto mettere dello scortex o qualcosa che comunque protegga il tunnel centrale senza che andiamo poi a imbrattare completamente la macchina, non mi va di stare a pulire 10 volte. Con un po' di pazienza, diciamo circa 2-3 minuti via, questo si può limare, quindi lavoro complessivo, di montaggio e smontaggio, 5 minuti, niente di che, lavoro veramente semplice per chi ha questa tipologia di cambio. Mi piacerebbe fare un tutorial anche per chi ha la retromarcia a innesto avanti, dovrebbe essere il cambio di 6 marce, sarebbe molto curioso, non so neanche se sia più complicato. Magari scrivetemelo nei commenti. Limate il dentino quasi a filo con la leva del cambio, comunque verificate mano a mano che limate con la pipetta per vedere se entra. La pipetta si può inserire e svitando prima questa piccola brugolina di fissaggio si infila con la parte in alluminio, l'anello in alluminio che sporge come base, quindi verso il tunnel. Andiamo a rifissare la pipetta con la brugola e successivamente, ah, giustamente bisogna rimuovere prima lo scottex, me ne ero scordato, quindi dicevo, una volta avvitata la pipetta andiamo a mettere la cuffia del cambio e poi successivamente ad avvitare il pomello. Non preoccupatevi se il pomello arriverà a fine corsa leggermente storto, non è un problema, voi avvitatelo a morte, dopodiché andremo a svitare la pipetta come sto facendo io e ruoteremo tutto il blocco insieme e andremo a rifissare successivamente la pipetta così il cambio non si muoverà più, l'ho già testato, veramente fantastico. Ok ragazzi, abbiamo visto come smontare il pomello originale della Mito a cinque marci con retromarscia dietro e dietro a destra e abbiamo visto come montare il fantastico pomello, la fantastica opera d'arte di Lorenzo di RL Tech Design, veramente una cosa assurda, mi piace, mi fa impazzire, è una cosa veramente indescrivibile, non ci sono parole per descrivere veramente quanto è bello questo pomello. Penso che sia il migliore che possiate trovare in circolazione artigianale, è assurdo veramente, quindi vi lascio il link in descrizione di RL Tech Design così potete contattarli. Non vi faccio vedere come si monta lo sfiato della turbina, vi lascio il link in atto a destra per andare al tutorial su come si monta e ovviamente vi lascio una foto di come ci sta, veramente bello, pazzesco pure quello con il mio logo, potete farlo personalizzare a vostro piacimento. Quindi niente, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, commentate se avete bisogno di informazioni, ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, di seguirmi su Instagram, di iscrivervi al mio gruppo su Telegram che trovate in descrizione. Ciao a tutti ragazzi!